Exoraptics, oggi vi occupo per voi questa fantastica Peugeot 308, motore 1.5 con 130 cavalli di corvinza. La troviamo oggi nell'allestimento Allure con questo fantastico faro a LED. Spostandoci poi nella parte laterale della vettura possiamo visionare questo cerchio in lega B-Color del raggio 17. Spostandoci nella parte posteriore troviamo un serbatoio da 53 litri. Sensore di bancheggio nella parte posteriore con retrocamera e un appassimo bagagliaio della capacità di 412 litri. Nella parte posteriore dell'abitacolo troviamo cristalli elettrici, interno in tessuto misto pelle con questo bellissimo ricamo color azzurro, doppio attacco ISOFIX per i nostri bimbi, bocchette nell'aria e doppia presa USB. Nella parte anteriore possiamo trovare il nostro volante in pelle con comandi per il cruise control e la gestione dello smartphone, schermino touch dal quale possiamo gestire totalmente l'infotainment e uno schermino davanti al guidatore dove possiamo gestire direttamente il veicolo. Abbiamo poi il cambio automatico e il freno di stazionamento automatico. Il veicolo è un'immatricolazione di dicembre 2022 alimentato a diesel, chilometro zero ovviamente. Vieni a visionare queste altre pregioni sul nostro sito ratix.com